C'è anche il nome della signatrice PD Aquilana Stefania Pezzopane tra i firmatari del decreto legge Cirinna, recentemente convertito in legge, che fissa regole, diritti e doveri per le coppie sia eterosessuali che omosessuali. Un testo che, secondo l'esponente Democrat, mette l'Italia al passo con le altre legislazioni europee. Sì, ormai la legge è a tutti gli effetti legge dello Stato, un lavoro faticosissimo, un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale e che abbiamo onorato alla grande. La legge sulle unioni civili consente anche alle coppie omosessuali di avere una relazione che la legge a questo punto riconosce, con tutte le conseguenze del caso. Ci avevano provato numerosi governi, prima di questa operazione politica importante, con i Dico, con i Pax e con altre formule, senza riuscirci. Noi abbiamo trovato il giusto equilibrio, che è un riconoscimento giuridico, con le conseguenze relative ai diritti delle due persone. Non abbiamo inserito la questione delle adozioni in questa fase, perché è una questione su cui dobbiamo ragionare meglio ed evitare i pericoli legati alla maternità surrogata. Sulle adozioni però stiamo intervenendo, perché la legge italiana sulle adozioni è comunque una legge molto arretrata. Una legge però contestata e non condivisa dall'intero Parlamento, in particolar modo dall'elettorato cattolico e di quello aderente al Family Day, che ha minacciato di votare no ad ottobre, quando gli italiani si dovranno esprimere sulla riforma costituzionale. C'è una parte della politica che campa proprio su queste ideologie, nel senso che non ha alcun ruolo politico, non riesce a determinare nessun fatto storico, vive solo sull'integralismo, quindi fa campagne integraliste per auto-mantenersi in vita e questo i cittadini lo colgono e se ne allontanano. È iniziato il conto alla rovescia Villa Gioia per l'approvazione del bilancio comunale. Entro il 25 maggio, ultimo giorno utile, dopo la diffida del prefetto, partita dopo il mancato via libera nei termini previsti dalla legge del bilancio, il Comune dell'Aquila dovrà approvare lo strumento contabile finanziario o si arriverà allo scioglimento del Consiglio Comunale. In attesa che arrivino fondi, dopo le promesse dal Governo, è arrivato il via libera dai revisori dei conti, anche se all'orizzonte si prospetta un'altra mazzata per i contribuenti aquilani, che dopo l'aumento del 20% delle scorse settimane potrebbero veder salire di un ulteriore 30% il costo della Tari, la tassa sui rifiuti. Il Collegio dei Revisori, infatti, ha espresso parere positivo ma con riserva, sottolineando come il documento di previsione finanziaria necessita di un attento monitoraggio. In merito al mantenimento degli equilibri di parte corrente e dell'attuazione con estrema sollecitudine di ogni azione necessaria in caso di mancato riconoscimento del trasferimento erariale straordinario a fronte delle minori entrate e maggiori spese da sisma. Come a dire, se non arriveranno i fondi richiesti al Governo per ristorare l'ente delle maggiori spese e minori entrate dovute alla fase post-terremoto, 24 milioni stando alle valutazioni del Comune, 18,9, secondo la verifica istruita dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sarà necessario predisporre azioni a copertura del disavanzo. Significa che l'amministrazione, non dovessero arrivare le risorse assicurate ogni anno, almeno finora, dall'esecutivo nazionale, dovrà alzare la Tari già schizzata al 20% di un ulteriore 30% a luglio. Il contratto con OSM, come è noto, è pari a 11 milioni e mezzo di euro. Il Comune dell'Aquila in questi anni ha provveduto alla copertura, in misura prevalente, con il gettito di applicazione delle tariffe Tari per l'importo residuo, facendo ricorso alle risorse stanziate annualmente dalle competenti autorità governative. I fondi del Governo, appunto, non dovessero arrivare con l'aumento del 20%, si tirerebbe avanti per qualche mese, poi l'ASM non potrebbe più raccogliere l'immondizia se non a fronte di un ulteriore, pesante aumento della tassazione. Si tratterebbe di un vero e proprio salasso per gli aquilani, sia per le imprese, sia per le famiglie. Intanto, il documento di previsione, così come approvato dall'Aggiunta, passerà al vaglio della Commissione di bilancio per l'approvazione, domani, martedì 17 e giovedì 19 maggio. Giusto in tempo per il Consiglio Comunale, che dovrebbe ratificarlo con l'assise la prossima settimana. Sono partiti oggi i lavori per realizzare la segnaletica orizzontale dei parcheggi sull'ultimo tratto di viale Corrado IV. Circa 40 posteggi, con posti riservati anche ai disabili, come annuncia l'assessore comunale alle opere pubbliche Maurizio Capri. Una scelta quella dell'amministrazione per far fronte alle numerose richieste dei commercianti della zona, che negli ultimi anni, a causa di lavori e mancanza di parcheggi circostanti, hanno visto ridursi drasticamente il numero dei clienti dei loro esercizi commerciali. Entro la prossima settimana, invece, si concluderanno i lavori relativi ai parcheggi della Rotonda, tra viale Corrado IV e via Beato Cesilio. A breve ci sarà l'inaugurazione. Anche in quella zona si pagava la mancanza cronica di aree di sosta. I lavori in quell'area sono costati circa 200 mila euro, i parcheggi a servizio delle attività commerciali sono 50. In zona ci sono anche dei palazzi appena ristrutturati, che a breve verranno riconsegnati ai proprietari. L'assessore Capri ha chiarito che si sta ultimando anche la segnaletica nella stessa area, mentre, entro la fine del mese, dovrebbero essere pronti anche i parcheggi dell'Exompi, la struttura cittadina che ospita gli anziani. La viabilità complessiva di quella zona dovrà concludersi a breve con il terzo lotto in viale Corrado IV, un lotto che prevede una rotatoria nei pressi del casello dell'Aquila Ovest e il cui completamento è previsto per il mese di giugno. In questo modo, ha spiegato Maurizio Capri, si avrà un collegamento tra la statale 17 e la statale 80, che diverranno così a senso unico. Sindaco Cialente, la Gran Fondo dell'Aquila, prima edizione, una grande manifestazione e un grande successo. Grande successo. Ho appena salutato addirittura uno sportivo, un ciclista arrivato da Manchester con la famiglia. Beautiful, beautiful. Perché la cosa importante è che il percorso è veramente bello, perché noi abbiamo la fortuna di queste nostre aree che si attraversano. qui nell'Abruzzo interno. È un grande successo, lo ripeteremo organizzandolo sempre meglio. Si lega all'operazione che abbiamo fatto l'anno scorso della cima a Pantani, che è una sfida. Io già mi sto preparando per riuscire a farla come si deve a settembre, se ci riesco. Sindaco, due parole sulla WISP Abruzzo Molise, che organizza sempre manifestazioni importanti, dando a tutti la possibilità di partecipare, dai più giovani ai meno giovani. Ma guardi, io credo, le posso rivelare un piccolo segreto. 43 anni fa, giovanissimo, studente, appena studente di medicina, all'Aguila fondammo WISP e Arci. La WISP ha sempre avuto questo ruolo. Dà la possibilità di fare sport anche a chi lo fa ormai a livelli quasi paragonistici, paraprofessionali addirittura, ma anche a chi lo fa a livello amatoriale. La cosa bella è che qui oggi sono partiti insieme, quelli come sarei partito io se avessi avuto un problema, destinato a impiegarci 7, 8, 10 ore, ma parte anche poi quello che in questo momento è il campione d'Italia, che ha fatto un tempo eccezionale. Questo è un po' il senso dello sport. Grazie a tutti.